Tanto dolore a Rosà non ce l'ha fatta Alen Elmazovski, lo studente di 18 anni, vittima del terribile schianto avvenuto mercoledì scorso lungo la Val Sugana tra Bassano e Rosà. Il giovane si è spento all'ospedale nella tarda serata di giovedì dove era stato trasportato in gravissime condizioni. I medici hanno tentato il tutto per tutto. Alen è stato sottoposto a numerosi interventi chirurgici, ma per lui non c'è stato nulla da fare, gettando nel dolore non solo la comunità rosatese dove viveva con la famiglia, ma anche la scuola che frequentava con successo il liceo Brocchi e i compagni di allenamento. Il liceottenne era un atleta impegnato, premiato anche di recente dall'amministrazione come uno degli sportivi più promettenti. Gareggiava per l'atletica Nevi di Rosà. Quel maledetto mercoledì stava tornando a casa da scuola in sella alla sua Vespa Piaggio, quando in via Capite il Vecchio è stato centrato da una BMW condotta da una 25enne di Cassola che usciva dal parcheggio del ristorante All the Wild West e che ora sarà indagata per omicidio stradale. Il ragazzo non è riuscito a evitare l'auto che si stava immettendo in Val Sugana. Sbalzato dalla sella della Vespa è finito in mezzo alla strada a diversi metri di distanza dal punto dell'impatto. Un impatto che sin da subito è sembrato molto serio per i sanitari del suo M118 immediatamente allertati. Allen, nonostante le condizioni disperate, ha dimostrato la sua voglia di lottare, ma le ferite riportate non gli hanno dato scampo. Ha combattuto come un leone per più di 24 ore, sino al drammatico epilogo.